L'Aido, associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, annuncia che sabato 24 febbraio alle ore 16 in prima convocazione e domenica 25 alle ore 17 in seconda in via Kennedy 16 a Caltanissetta si terrà l'assemblea ordinaria intermedia del gruppo comunale Nisseno. Durante l'assemblea aperta a tutti sarà possibile aderire all'Aido e diventare donatori di organi, si legge in una nota. All'ordine del giorno, l'elezione del presidente e del segretario dell'assemblea, presentazione, discussione e approvazione della relazione sull'attività svolta nel 2017, elaborata dal consiglio direttivo, bilancio consultivo 2017 e bilancio preventivo 2018. Infine sarà presentato, discusso e approvato il documento di indicazioni e proposte per l'anno che verrà. L'Aido, strutturata in tutto il territorio nazionale, è un'organizzazione apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro, fondata sul lavoro volontario. Opera nel settore sociosanitario e ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, si legge all'articolo 1 dello Statuto. Grazie a tutti.